Il mio entri è in famiglia Anfibio, Elan, si tratta del modello 88 XTI, al centro di larghezza 88, piastra nuova con la base allargata per più stabilità, migliore trasmissione degli impulsi sulla lamina, costruzione anima in legno monotitanio e il destro sinistro per sull'interno costruzione camber per più stabilità in curva, invece sull'esterno costruzione rocker per più facilità in entrata curva.